Con oggi depositiamo sia alla Camera che al Senato delle proposte di legge della Lega per annullare l'infame riforma Fornero e invitiamo anche tutte le altre forze politiche da destra a sinistra a darci una mano perché se è impedito il voto agli italiani se il Parlamento serve ancora a qualcosa noi ci aspettiamo che finita la panzana della legge elettorale il Parlamento si occupi di cose serie e quindi della nuova riforma delle pensioni proposta dalla Lega Attualmente è in corso un sitino a Montecitorio dei lavoratori Ecco, come la mettiamo con i 71 lavoratori? Finita la conferenza sulla legge Fornero, se vuoi parlo con te di settore Mi puoi rispondere visto che sono qui Ti sto dicendo, finita la conferenza sulla legge Fornero, parliamo di tutto quello che vuoi a partire dai lavoratori Non mi sparisca Sono qua, devo sparire Ok, va benissimo, attendo allora Attendo Che ora è? Sì sì, che ora è? Ok, 43 Cazzo, io devo andare a fare anche la borsa Segretario, senta, allora per quei 71 licenchiati Sì, faremo tutto il possibile, come abbiamo già detto circa sei volte, posso ripeterlo per la settima volta Senta, ma loro avevano richiesto un contratto di solidarietà Ragazzi, questione di quattreni, non ho i milioni di euro, non ho le cene da mille euro come Renzi Non ho le cooperative che mi aiutano, non stampo i soldi in cantina Faremo tutto il possibile Non ho le cooperative che mi aiutano, non ho le cooperative che mi aiutano, non ho le cooperative che mi aiutano